C'è molto molto interesse nei confronti degli articoli che migliorano l'assetto. A cosa mi riferisco? Non al classico distanziale, molla rivassata, ammortizzatore sportivo, ma a una serie di accessori ancora più tecnici e un po' più di nicchia per l'appassionato classico, che sono biellette rinforzate, barra duomi, bracci rinforzati, barre di irrigidimento, che più, barre antirollio, regolazione camber, quindi top mount e piastre di regolazione, articoli di questo genere. A cosa servono? In generale, non è da fissati, hanno una loro assoluta utilità, è l'appassionato, un po' più tecnico, cavolo se li apprezza. In generale a cosa servono? Se ci stai pensando e se vuoi capire se fa per te o no. Servono a irrigidire l'auto e andare a contrastare proprio i movimenti naturali, elastici, che l'auto ha normalmente tra le sue parti durante il normale utilizzo. Sono tutti dei movimenti che noi andiamo a contrastare correggendo le impostazioni che diamo alla traiettoria. Tutte queste correzioni ci causano comunque, non parliamo solo di gare, ma anche della guida di tutti i giorni, perché magari c'è a chi piace guidare in maniera più concentrata. Non si parla di guidare veloci, ragazzi, si parla di guidare in una maniera tale che dia godimento, cioè che dia veramente una felicità nel guidare un'auto ben preparata. Quindi, quando ci sono tutti questi piccoli sconvolgimenti, noi andiamo a fare delle piccole correzioni per riportare l'auto dove volevamo che fosse e farla andare come volevamo che andasse. Questi componenti che vanno a irrigidire vanno a contrastare proprio questi movimenti, permettendoci due cose. Uno, di non dover fare troppe correzioni. Due, di restituirci un'esperienza di guida, quindi una lettura della strada molto più precisa. Ovvero, impostiamo una traiettoria, vogliamo che l'auto faccia un qualcosa e avendo questa tipologia di componenti molto molto interessanti, l'auto è più probabile che la faccia. E quindi noi siamo concentrati solo sulla guida e solo sulla traiettoria che vogliamo e non sul correggere, sull'andare a riprendere, sull'evitare che ci sia una perdita di un certo tipo. È una cosa ben diversa, è una cosa ben diversa. Quindi vi invito a considerarli, soprattutto se magari sono anni che voi sulle vostre auto mettete i soliti, tra virgolette, distanziali, molle e ammortizzatori. Volete provare qualcosa di diverso? Ci sono tanti bei prodottini che vi stupiranno. Fateci sapere se avete delle domande o se volete acquistare qualcosa o saperne di più. Noi siamo a disposizione. Questi sono i nostri canali social. Il nostro sito è repartocorsestore.it Vi ricordo che abbiamo anche la possibilità di essere contattati, oltre che su tutti i social, via mail e via whatsapp. Sul nostro sito trovate tutti questi modi di contattarci. Grazie per aver visto questo video. Al prossimo. Ciao ciao. Ciao.